buon pomeriggio a tutti cari amici e dopo un bel pranzetto siamo qui a riprendere con i video parliamo di basket italiano questa volta però da questa sera fino a domenica ci saranno le final letto di coppa italia a pesaro si leggo qui a pesaro non mi ricordavo allora esclusive televisive di rai sport ed eurosport 2 ovviamente rai sport in chiaro sul digitale terrestre ed eurosport 2 previo abbonamento quindi a pagà allora oggi alle 18 milano cremona a seguire alle 20 45 virtus gafredo bologna contro umana rayer venezia e che vincano i migliori ci vediamo domani per i risultati e per la presentazione delle partite di venerdì 14 febbraio ciao a tutti